Cari amici, un saluto, un breve video per riassumere le notizie salienti dell'ultimo video di Davide Cristallo. Che saluto, che ringrazio per il lavoro enorme che fa. Spero che questa mia opera di spezzettamento, di semplificazione e di riassunto dei suoi video non gli dispiaccia, ma anche se la consideri piuttosto fedele ed utile. Quindi qualora vedesse uno dei miei video, ripeto e ribadisco, il frutto del lavoro è il merito è suo, il lavoro di approfondimento, la ricerca è tutta di Davide Cristallo. Vi invito a iscrivervi ai suoi canali, fa veramente un lavoro molto 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 interessante. Purtroppo i suoi video a volte sono anche un pochino lunghi e qualcuno va di fretta, molti vanno di fretta e non li seguono, sbagliando, sbagliando. Bisogna anche trovare il tempo per informarsi e per informarsi bene e correttamente. Comunque, in quest'ultimo video, intanto Davide Cristallo ha parlato della One American Network, che è la televisione già attiva, già funzionante, che già trasmette, diciamo voluta da Trump. E su questa tv ieri è passato un filmato di Christopher Miller, ho preso degli appunti e quindi vedrete che ogni tanto muovo il capo proprio per leggere. Christopher Miller, segretario della difesa, quindi uomo con un ruolo importante, uomo di intelligence, che dice che le forze speciali vengono equiparate alla CIA e all'FBI. È una cosa di grande importanza. Abbiamo le forze speciali che sono in contatto diretto con Trump, che vengono appunto equiparate alla CIA e all'FBI, agenzie sul cui operato ci sarebbe molto da dire e ci sono molti dubbi. Le forze speciali, invece, riprendendo un po' il discorso che era già stato portato avanti 60 anni fa da Kennedy, da niente po' di meno di Kennedy, ora vedono il loro ruolo, il loro potere aumentato, per così dire. Ma Miller pare sbilanciarsi in questo video e fa dei passi avanti, dice anche altre cose, cose enormi, cose rilevanti che sicuramente Trump, in quanto Presidente degli Stati Uniti, direttamente non potrebbe dire. Miller ci parla appunto di un nuovo tipo di guerra, anche questa non è una novità, ma molti ancora non se ne rendono conto e quindi vale sempre la pena ribadirlo. Un nuovo tipo di guerra. Ci parla di conflitti non dichiarati, conflitti non dichiarati, conflitti non dichiarati, non c'è l'atto di guerra, sono gli ultimatum, però c'è il conflitto e c'è la guerra. Ci parla di guerra in corso e quindi anche qua c'è una guerra in corso, c'è una guerra in corso, molti non se ne rendono conto, ma assolutamente c'è una guerra in corso, ci siamo dentro, fino agli occhi, già adesso, già attualmente. Miller va ancora avanti, parla di attori maligni, attori maligni sullo scenario internazionale e parla di minacce transnazionali. Quindi non più il conflitto, il paese A che dichiara guerra al paese B o le coalizioni, il paese ABC che è in guerra contro il paese EFG, no, non più così funziona, ma funziona se ci sono minacce transnazionali. E Miller ci dice anche che si sta lavorando per appunto mettere in sicurezza i cittadini statunitensi, i cittadini americani. Attenzione, per la prima volta, o comunque se non per la prima volta, in questo caso si parla di sicurezza dei cittadini americani. Spero che questo video sia utile, è stato semplicemente, semplicemente un riassunto, un sunto in 5 minuti di video, di un analogo video molto più professionale, fatto molto meglio, molto più approfondito di Davide Cristallo, che ancora saluto qualora sia e veda questo video. Ringrazio per il lavoro enorme che fa e invitandovi, ripeto, a trovare il tempo per i suoi video, per seguirlo, a iscriversi ai suoi canali e già che ci siete, naturalmente iscrivetevi anche al mio. Grazie e alla prossima.